Pressione? Non lo so. Sì, forse un po', perché sei venuto qua da Roma, ha giocato lì cinque anni. Se vai a una nuova squadra vuoi dare tutte le cose che hai e se non fai bene, sì. Perché io so che la squadra è andata in finale Europa League, hanno fatto bene nel campionato e poi arrivi tu e perdiamo quasi tutte le partite negli ultimi due mesi. E' sicuro che vai a pensare, è colpa mia, è colpa perché è così. Non mi piace parlare delle mie prestazioni, ma io so che se gioco male, gioco male. Io sono il primo che sa questo. E' difficile, pur questo è una cosa difficile. Io capisco i tifosi, sono incazzato. Quando noi perdiamo una partita contro una squadra di quattro divisione, è una cosa grave per il club, per tutti, pure per noi. L'ultima tre partite è andato meglio, ma io capisco che loro sono incazzati con noi, ma io spero che venerdì sia con noi. Sì, prima la partita possono essere contro di noi, forse dopo la partita, se vinciamo, possono essere contro di noi ancora, ma durante la partita abbiamo bisogno dei tifosi. Ho visto pure il video dell'anno scorso, le partite in Europa League, se loro sono con la squadra, è una cosa in più per noi. Io spero, venerdì, che durante la partita per 95 minuti sono con noi e prima la partita mi possono insultare, eppure dopo la partita se vogliono, ma durante la partita la squadra ha bisogno dei tifosi.